Il Laboratorio di Realtà Virtuale dell'Università di Siena ha creato, attraverso una convenzione con la Scuola Edile, una simulazione virtuale dei processi che i lavoratori edili devono svolgere per l'attività in quota. In questo modo i lavoratori edili possono formarsi ad un'attività, e per loro è importante e rischiosa, in assoluta sicurezza. Le simulazioni in realtà virtuale hanno un valore particolare per la formazione in training. Rappresentano infatti un'esperienza vera e propria di carattere interattivo che consente all'utente di testare, provare e quindi apprendere quali sono le sue reazioni in determinate circostanze. Attraverso l'uso dei caschetti Oculus o HTC Vive è possibile costruire delle simulazioni che tengono conto delle competenze dei ricercatori del laboratorio.